Telemarketing selvaggio, truffe ed estorsioni, sgominata una banda con sedia a Padova e in Albania da parte della Polizia Postale, coordinata nelle indagini dalla Procura di Milano. Tutto è partito dalla denuncia di un sacerdote milanese tartassato da telefonate da parte di operatori di call center, dai toni minacciosi, a far partire le indagini della Polizia Postale di Milano su una rete internazionale di criminali. Le chiamate, arrivate a centinaia di persone, vertevano su presunte bollette non pagate relative a contratti mai stipulati da chi veniva contattato. Per le truffe i malviventi usavano anche l'intelligenza artificiale. I raggiri partivano da insistenti telefonate fatte a tutte le ore del giorno e della notte finalizzate alla raccolta di dati delle persone che erano convinte di parlare con la Rera, l'autorità della regolamentazione delle reti di energia e ambiente, o con compagnie con cui avevano i contratti. Alle medesime persone veniva poi fornita una scusa per cambiare temporaneamente operatore. Quando il gruppo non riusciva a persuaderli stipulava comunque contratti a loro nome oppure usava l'intelligenza artificiale per registrare e modificare le loro voci e poi usarle per siglare con sì virtuali i contratti vocali. Nei mesi successivi poi partivano le chiamate minatorie per ottenere i pagamenti. Intanto ti depotenziamo la corrente e se non paghi te la stacchiamo. Le minacce ricevute da una donna veneta di 87 anni finita nel mirino dei truffatori. Le truffe hanno portato ad un bottino di circa 9 milioni di euro in tre mesi coinvolgendo circa un migliaio di ignari truffati. 35 le perquisizioni in Italia e in Albania e 40 i denunciati a vario titolo.